Non nascerà? Sai, il mio ginecologo mi ha detto che sono già la ventisettesima settimana, pesa 2,3 kg ed è lungo 48 cm. E adesso a che punto sei? Guarda, nascerà il ventisette di questo momento di mattina. Di mattina? Il pomeriggio allo studio. Ma per caso! Sì, il mio ginecologo mi ha detto che vuoi sapere le cose. Quanto vuoi? Ma so, venga, vantale, insieme a spesta. Sarà maschio o femmina? Sono grosse perché hanno in punta le mani. Guarda, vieni di una roba. E' stata quella tuta e la prima lena tuta. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.